Tanto tuonò che piove. Potremmo usare questo antico adagio per descrivere la rabbia dei residenti di Indicatore che ci danno notizia dell'avvenuta dismissione dello sportello bancario nella frazione del comune di Arezzo. La nota pubblica è firmata gli abitanti di Indicatore 5200 Arezzo, quasi a voler sottolineare che questo paese che appare dimenticato fa comunque parte del comune di Arezzo. Erano stati proprio i residenti ad avvisare anche la nostra redazione dello stato di abbandono in cui versa questa frazione. Questo sottopasso che realizzato alle ferrovie costato più di 1 euro, poi potete vedere in che condizioni si trova, chi usa il passo pedonabile, con le carrozzine giuntamente non si possono passare, la sicurezza che non c'è, ci passano drogati, è diventato uno scarico dei rifiuti. Il problema della sicurezza lo risolviamo solo ed esclusivamente se diamo protezione agli attraversamenti pedonali con dei dossi deceleranti, con dei dispositivi deceleranti che evitano il gran premio che tutti i giorni ci sia il gran premio a Indicatore. C'è grande amarezza dunque tra i cittadini di Indicatore che avevano lanciato un grido di allarme nelle scorse settimane e avevano raccolto anche le firme. E chiaramente noi siamo costretti ad andare in città per andare in banca, fare le file. E ad Indicatore c'è anche il problema che le strade non hanno nomi. Qua non ci sono le strade, cioè non ci sono i nomi delle strade. La zona E, zona B, zona C, se farebbero qualcosa anche in fondo nelle strade, magari mettici numeri da 5 al 10, zona E, magari è una cosa più facile, invece si imbarcano dentro, girano, girano. Insomma, i malati che aspettano l'ambulanza è una cosa difficoltosa. Ed infine l'annosa questione dell'eterno incompiuto, lo scalomerci. È vent'anni che lì, è stato comunque realizzato rispetto di tutti, nonostante tutti sapessero che quelle volumetrie non sarebbero state usate. Di fatto ultimamente è stato usato come scarico dei rifiuti. È successo che è diventato per molti avventori casuali della notte un punto di scarico pseudo autorizzato perché era lì. Nessun amministratore, scrivono, ha sentito il dovere, almeno civico, di contattarci e chissà ha ragione di quale grande strategia. Forse è stato solo il timore che gli chiedessimo gli autografi. Per questo, concludono, andremo avanti convinti che le giuste ragioni alla fine ce la faranno a sconfiggere anche l'evidente disprezzo per la dignità delle persone.